E' una volata al cardiopalma a decidere la prima tappa del Giro di Romandia 2016. La Ethics Quickstep fa un grandissimo lavoro per portare il suo velocista Marcel Kitter allo sprint finale. Ai 350 metri Albasini tenta di anticipare la volata ed è dovuto intervenire di persona Marcel Kittel per chiudere il buco e lanciarsi verso la vittoria con Bonifazio che è uscito dalla sua ruota cercando di insidiarlo. Primo dunque Marcel Kittel di fronte a Nicolò Bonifazio, Albasini, Van der Sande e Navardauskas. Primo dunque Marcel Kittel di fronte a Nicolò Bonifazio.